Salve, eccoci di nuovo. Abbiamo parlato della componente motoria, della componente cognitiva e nel corso degli ultimi circa 30 anni si è cominciato a studiare gli aspetti emotivi. Il passaggio dal concetto di intelligenza unica al concetto di intelligenze multiple ha portato anche alla scoperta e alla valorizzazione dell'intelligenza o delle intelligenze emotive. Quindi si è visto che se si vivono emozioni positive si apprende meglio, si fermano gli apprendimenti, gli apprendimenti durano nel tempo e le prestazioni neuromotorie, ideomotorie sono migliori. Quindi si è scoperto che noi funzioniamo con una catena circolare emotivo-cognitivo-motorio. Questo è abbastanza riscontrabile se vediamo per esempio il percorso scolastico dove se a un bambino vengono insegnate le cose con metodi coercitivi, costrittivi, diciamo è costretto a studiare cose che non capisce e che non gli va di fare, è costretto a farle, le farà male, apprenderà poco. Quel poco che apprende lo scorderà velocemente e la sua prestazione, che potrebbe anche essere di tipo grafico, non sarà delle migliori, a volte sono proprio pessime. Mentre un bambino che attraverso il gioco magari si diverte, impara più velocemente, impara di più, ferma gli apprendimenti e li mantiene nel tempo ed avrà una prestazione motoria, ideomotoria, psicomotoria sicuramente molto più efficace. Quindi pensiamo a quanto sia inopportuno costringere le persone con disabilità a fare percorsi di sacrificio quando abbiamo visto che il sacrificio è dannoso. Quindi cominciamo a pensare agli aspetti belli della vita, cominciamo a pensare che il bambino con disabilità non è rotto, qualcosa di rotto da riparare, ma è un bambino che ha il diritto di giocare attraverso il gioco, attraverso il divertimento, attraverso il piacere, cresce, come fanno tutti i mammiferi. La mamma gatta insegna ai suoi cuccioli a vivere, a progacciarsi il cibo e nutrirsi attraverso il gioco. Forse, se riscoprissimo il gioco, renderemmo la vita più gradevole a tutti. Grazie per l'attenzione.